Un bel test contro il Perugia, una bella partita. Che cosa ne pensa la sua squadra? Ma sì, per essere in questa fase direi piacevole. Dopo sono solo due settimane che lavoriamo insieme e sappiamo quello che dobbiamo fare. In questo momento qua stiamo lavorando ancora sulle macro cose, quindi distanze, posizionamento, tenuta di campo e su questo secondo me stiamo facendo bene. Poi è chiaro che ci sono dei particolari da sistemare ma ci mancherebbe che dopo due settimane non ci fossero. Quindi sono contento in generale soprattutto perché non ci sono stati infortuni, qualcuno ha fatto anche più di 45 minuti, stiamo crescendo col minutaggio. Questi sono gli obiettivi in questo momento, poi onestamente il potenziale di questa squadra io lo conosco quindi non sono stupito del fatto che si sia tenuto il campo bene. Poi la differenza di categoria c'è e sulle piccole cose quando si sbaglia giustamente si paga. Ecco mister, come ha detto lei sono miniaturaggi, questi amicari servono per questo. Che cosa si aspetta da questo Rimini in campionato Lega Pro? Io non mi aspetto mai niente. Io lavoro, cerco di tirar fuori il massimo dalla squadra e poi vado a vedere quello che succede. Questa è una squadra che ha secondo me un buon potenziale, che ha giocatori anche di categoria superiore, deve amalgamarsi in fretta e si riesce a sfruttare quelle che sono le esperienze positive che ha fatto l'anno scorso e travasarle sui giocatori nuovi che sono arrivati, che stanno capendo quella che è la nostra mentalità e il nostro modo di lavorare. Quindi questo deve essere secondo me il nostro obiettivo in questa stagione e in questo momento. Mi pare anche sul Perugia, come l'ha visto? Il Perugia è sicuramente un po' più avanti di noi su certe cose, poi è chiaro che è sempre una squadra alla quale mancavano alcuni pezzi importanti. Penso che non sia il prodotto finito, penso che sia un qualche cosa in evoluzione ed è una squadra molto verticale, che sa sfruttare i tuoi errori, che sa giocare negli spazi bene. Insomma, non l'ho visto male.